Oggi avviene che la FIAB regionale toscana ha organizzato tre giorni di ciclo staffetta sulla ciclopista dell'Arno per porre l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla realizzazione definitiva finale della ciclopista dell'Arno, da Stia ad Marina di Pisa. In sella le due ruote hanno passato al setaccio la ciclopista dell'Arno in Chiasentino per un vero e proprio bici monitoraggio per valutare lo stato di salute del tracciato. I ciclisti della FIAB toscana hanno così promosso il tratto che va da Stia a Rassina. La pagella definitiva sarà completata solo al termine della tre giorni di pedalata e che si concluderà a Firenze il 26 giugno con l'incontro con i rappresentanti di regione, comune di Firenze e città metropolitana. Sono due gruppi, uno che parte da Pisa, l'altro da Stia e o Siena e che si ritrovano a Rezzo, Figline e andranno fino a Firenze a portare e a significare le problematiche. Noi chiediamo che venga realizzata al più presto la ciclopista dell'Arno che nel tratto casentinese è abbastanza completata e poi che le altre amministrazioni seguano per esempio l'esempio dell'Unione dei Comuni del Casentino che ha lavorato molto bene. Le ciclopiste e il cicloturismo sono essenziali anche per lo sviluppo economico perché i cicloturisti dall'Europa se hanno strutture adeguate verranno a frotte a riempire le nostre ciclovie e a nutrirsi delle bellezze della nostra regione. In Casentino è in procinto di essere firmato il contratto di fiume H2O Casentino. Tra i suoi obiettivi è quello di valorizzare l'ambiente fluviale perché venga vissuto dalle popolazioni locali ma che diventa anche occasione di fruizione turistica. e quindi la ciclopista a pieno titolo è un elemento di grande attrazione e di grande vivibilità. Ricordo che H2O Casentino è un contratto di fiume che sta dentro un progetto ben più ampio patto per l'Arno, un grande contratto di fiume promosso dall'autorità di Bacino e dai tre consorsi di bonifica che insistono su tutta l'asta dell'Arno per la valorizzazione di questo grande fiume toscano.